Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Oggi parliamo di Dilan Dog Old Boy numero 2, conosciuto anche come Maxi Dilan Dog numero 40, che dalla volta scorsa ha cambiato il nome commerciale in Dilan Dog Old Boy, perché per differenziarsi un pochino dalle altre due testate, il Color Fest e la testata principale di cui è appena terminata la saga 666. Per il Dilan Dog Old Boy numero 1 avevo fatto due video distinti, uno per ogni singola storia che si trovano nell'albo. In questo caso però vorrei fare un singolo video perché non ho moltissimo da dire. Innanzitutto vi ricordo che in questo numero c'è un poster dilaniato in omaggio che potete vedere alle mie spalle e di cui potete vedere anche l'unboxing nel mio account Instagram, dove ho postato un video in cui lo stacco dal volume e lo apro per la prima volta insieme a voi. Andatelo a vedere, vi metto qua Instagram No Mamamazzo. Già che ci sono vi ricordo sempre di iscrivervi anche a questo canale, a tutti gli altri miei social, ho Facebook, ho appunto Instagram, adesso ho pure TikTok così per fare qualche video scemo, per ricordarvi che è uscito un mio video su YouTube, ho anche il canale Viola, ogni tanto faccio delle live, spero di fare una programmazione regolare più regolare a breve. Comunque state tranquilli che in descrizione trovate tutti i link per seguirmi. Non comincio mai dalla copertina, quasi a volte non ne parlo ed è una mia grave pecca, lo so, ma questa volta, fonte anche del fatto che c'è il poster in omaggio uguale alla copertina, ecco, perché l'altra volta non c'era, l'altra volta quando hanno regalato il poster non ero uguale alla copertina, vorrei parlare della copertina. La copertina è disegnata da, e vado a leggere, Raul e Gianluca Cestaro, o Cestaro, scrivetemi sotto se sbaglio la pronuncia. La copertina di questo Dylan Dog si rifà chiaramente alla copertina del numero 1, l'alba dei morti viventi, che magari vi metto qua accanto così fate un confronto, vi metto qua entrambe le copertine. Chiaramente è ridisegnata con uno stile tutto nuovo, nonostante siamo nell'old boy, vecchi ragazzi. Mi piace che abbiano usato la copertina che cita l'alba dei morti viventi per sancire la nuova vita di questa testata. Perché se l'altra testata faceva un po' il verso al fatto che era il Dylan Dog di sempre, per fare contrasto alla saga 666 che era ancora in corso, qua ormai la saga 666 è terminata, e mentre nell'altro albo c'era una storia che in realtà di vecchio non aveva nulla, perché era futuristica, era ambientata in un futuro, in una realtà distopica, la prima storia. La seconda storia invece era molto vecchia. Qua invece si sta proprio sul classico, con due belle storie, vecchio stile, con la griglia che è sempre classica, non ci sono grosse eccezioni dalla griglia fumettistica tipica degli anni 80-90. Per la prima storia, che i disegni sono di Valerio Piccioni e Maurizio Di Vincenzo Lechine, e già che ci siamo vi dico anche la sceneggiatura, è di Rita Poretto e Silvia Mericone, è una storia anni 80-90 in tutto e per tutto, anche nei disegni. Mentre nella seconda storia, che è di, e vado a leggere perché non so i nomi, Green World, la seconda storia è di Riccardo Secchi, la sceneggiatura, e di Paolo Bacilleri, il disegno. Questo lo dico perché il disegno invece è molto diverso da una storia classica di Dylan Dogg. È una tecnica particolare appunto del disegnatore di Paolo Bacilleri, che a me ha ricordato molto in alcuni tratti i personaggi hanno la forma un po' dei personaggi di Alan Ford, ma lo stile di disegno mi ha anche ricordato quell'artista spagnolo, Joan Cornelà, se non sbaglio. Metto le mani avanti perché dopo Bansky si può dire di tutto, però vi metto il link in descrizione e vi metto qua un riquadro per farvi capire a chi mi sto riferendo, così poi se vi piace questo artista pazzo ve lo andate a cercare. C'è solo una pecca in questo Old Boy, che non poteva essere privo di difetti ovviamente. La pecca, per me quantomeno, è che la prima storia, Cuore Cattivo, si fa riferimento a una storia antecedente. Tra l'altro una storia che era presente nell'Old Boy, nel Dylan Dogg Maxi Old Boy numero 26, cioè in una storia quando ancora non era solo Dylan Dogg Old Boy, quando c'erano tre storie anziché due, quando non c'era questo cambio rivoluzionario di testata. Quindi è come se ci fosse, prendetela con le pinze la mia rimostranza, è come se questa storia facesse riferimento a una testata che non c'è più, però è solo una mia pecca perché non l'ho letta, perché quindi dico dove vado a pescarla. È il Maxi Dylan Dogg Old Boy numero 26. Vi metto qui la foto, così avete un'idea del numero a cui mi riferisco. Io quel numero non lo avevo preso, perché come sapete non prendo tutto di Dylan Dogg, prendo quello che mi ispira. E non avendolo preso, non avendolo letto, ho avuto ben pochi riferimenti per poter leggere questa storia dal titolo Cuore Cattivo. Seppur vero che nella seconda di copertina viene detto che non è un sequel, ma è un'evoluzione di quel numero, ragazzi, se è una rosa la chiamo scrivania, è pur sempre una rosa, voglio dire, è comunque un sequel, non me le venite a raccontare. Infatti io in molti punti mi sono un po' perso, se non altro perché ci sono molte scene, proprio a livello di disegno, di sceneggiatura, se così vogliamo dire, di inquadrature, dove ti sembra proprio di saltare delle pagine e dici ma sono io che non ho capito perché non sono stato attento, sono io che non ho capito perché non ho letto il 26 e magari anche il 26 era così e quindi se avessi letto il 26 questo l'avrei apprezzato di più, oppure ci sono davvero dei buchi di spiegone. Io, è vero, io amo gli spiegoni, a volte sono anche fin troppo espliciti, però qui ci sono delle pagine intere dove non ci sono dialoghi, cosa che stanno adottando molto spesso nei numeri di Dylan Dog. Non mi capacito bene del perché ultimamente si stia adottando così spesso il Nafsed in alcuni punti. Si potrebbe dire che è per risparmiare tempo ma in realtà i dialoghi sono la cosa che porta via meno tempo, sono i disegni, quello che portano via tempo all'uscita del fumetto. Si può pensare che mettano delle tavole in più per arrivare alle famose 190 pagine? Non lo so, però appunto ci sono ultimamente in tutte le testate ci sono sempre di più pagine senza dialoghi. Qua non c'è neanche una vera e propria comunicazione senza dialoghi, ti dà proprio quella sensazione di sogno o di incubo in cui tu non capisci bene cosa sta succedendo e va benissimo dato che si sta parlando di un incubo, ma non capisci nemmeno se è questo l'intento o se ti è sfuggito qualcosa. E dato che succede per tutto il numero, non solo in alcune parti, devo dire che pecca un po' questo numero di questa caratteristica. Nel finale ovviamente è tutto spiegato, tutti i nodi vengono al pettine, come direbbe Claudio Bisio, però appunto fino alla fine si è un attimino incerti se si è letto correttamente questo albo. Questo albo che non vado nemmeno a spoilerare perché credo che una recensione spoiler sia superflua. Passiamo invece alla seconda storia che non so dirvi se mi è piaciuta di più perché l'ho letta tutta ad un fiato rispetto all'altra, che l'ho letta in qualche giorno così con calma, o se mi è piaciuta di più perché mi ha preso di più la storia, mi ha preso di più la trama così stranissima da piccola bottega degli orrori e anzi forse anche peggio. Come dicevo, la storia ha una griglia di disegno e dei disegni che mi hanno ricordato molto l'artista Joan Cornelà, che è un artista che fa delle tavole davvero surreali, davvero strane, davvero splatter. E già questo mi ha fatto presagire una certa sensazione nel retrogusto della bocca che mi ha fatto pensare qua si andrà veramente su qualcosa di stranissimo. E così è stato. Mi è piaciuto molto l'effetto. È sicuramente una storia che avremmo potuto goderci negli anni 80-90 e di questo ne sono molto felice. C'è questa strana storia d'amore che parte dall'inizio fino alla fine per tutta la durata tra Dylan e questa ragazza, che mi ha ricordato un pochino il fantasma di Anna Never, ma poi si evolve totalmente in modo diverso. C'è questa signora che, diciamo, è la suocera di Dylan Dogg, che ricorda molto Poison Ivy. In particolar modo, soprattutto verso la fine di questo numero, mi ha ricordato una puntata in particolare di Batman di Animated Series, la serie fortunatissima cartone animati del 92, in cui era protagonista Poison Ivy. Non vi vado a spiegare subito perché, perché magari facciamo spoiler un pochino più avanti. Una cosa che mi ha fatto notare come siamo nella testata old boy e non in quella originale è stato il fatto che per tutta la durata di questo numero c'è presente una canzone in sottofondo che è stata tradotta, mentre nella serie regolare, per esempio nel numero 407, non ricordo che sia stata tradotta, semplicemente hanno messo in basso il titolo della canzone. Questa canzone ci accompagna per tutto il numero, purtroppo sappiamo solo alla fine che canzone è. La canzone è As They Fall, The Joy Division, che vi metto qui sotto così magari ve la cliccate, ve la ascoltate mentre leggete questo numero. Purtroppo scoprirlo alla fine non mi ha fatto gustare la canzone stessa, perché che io non conoscevo ovviamente, se l'avessi conosciuta l'avrei riconosciuta subito come a Sara Banda, ma non conoscendola ho dovuto aspettare fino alla fine per scoprire il titolo e andarlo a cercare. Quindi ecco, la prossima volta io magari il riferimento lo metterei subito all'inizio, non alla fine, così uno se la pianta nelle cuffie mentre si legge l'album, l'albo. Un'altra cosa che ci fa capire subito, che siamo nella testata old boy, credo però sia riferimento alla prima storia, sto facendo un po' di confusione, è il fatto che ci sia la famosissima frase di Dylan Dogg, sì però diamoci del tu, diamoci del tu, non diamoci del lei, è una frase che in tutti i primi numeri di Dylan Dogg, Dylan Dogg diceva sempre alle sue clienti oppure viceversa. Una frase, se ci pensate, che non ha senso dal momento che Dylan Dogg è ambientato in Inghilterra, dove tutti parlano inglese e dove la forma di cortesia you, cioè voi, quindi non il lei ma il voi, non si capisce perché il tu si dice comunque you ed è dal contesto che si capisce se si sta dando una certa forma di cortesia alle persone o no. Eventualmente un Dylan Dogg inglese poteva dire alle proprie clienti ma chiamami pure Dylan e non chiamarmi per il mio cognome e così via, ma di certo non ha senso la frase diamoci del tu, ma se vogliamo attaccarci a questo non avrebbero senso tutti i giochi di parole che Graucio fa sfruttando i sinonimi della lingua italiana. Un ultimo dettaglio che finalmente ci fa confermare, ci fa capire che questa nuova testata Dylan Dogg Oldboy è ambientata negli anni Ottanta, è cristallizzata negli anni Ottanta, è il fatto che c'è, c'è una morte, ovviamente in Dylan Dogg c'è una morte, c'è una morte, c'è una lapide, una lapide fresca in cui la data di morte riporta 1989, quindi sì, signori e signori, vecchi ragazzi, questo Oldboy è ambientato negli anni Ottanta e spero vivamente che resti fermo negli anni Ottanta per far sì che sia ancora più separato dalla testata regolare. Momento spoiler in cui faccio un riferimento più specifico alla citazione che ho detto prima, se non la volete sentire, tappatevi le orecchie, il naso e la bocca. Nella puntata a cui mi riferivo di Batman The Animated Series in cui Poison Ivy mi ha ricordato questa suocera di Dylan Dogg è perché Poison Ivy in quella specifica puntata che se non sbaglio era un'onesta casalinga, una casalingua qualunque, se trovo magari vi metto il link qua in descrizione, in cui Pamela Hysley, Poison Ivy, sembrava si fosse ritirata dal crimine e avesse una famiglia, una moglie, scusate un marito e dei figli, in realtà si scopre alla fine dell'episodio, un episodio raccapricciante, che questi altri non erano che degli ibridi umani piante, quindi erano delle piante dalle sembianze umane. In questo caso questa dolce nonnina, questa dolce suocera, non fa altro che fare una cosa molto simile, ovvero creare degli innesti tra delle piante, tra la talea, che ha la capacità di riprodurre quasi lo stesso DNA nei suoi figli, fa degli innesti piante esseri umani, in modo da clonare le persone. Non voglio dirvi di più di così, se per caso non l'avete letto, ma vi siete comunque ascoltati questa parte spoiler. Comunque è una cosa davvero raccapricciante, degna di Dilan Dog, degna di Dilan Dog Old Boy. In conclusione, prima di lasciarci, di augurarci una buonissima giornata, vorrei rispondere anche in video a tutte le persone che mi stanno scrivendo la stessa cosa in vari commenti. Ma perché Dilan Dog della serie regolare non lo hanno lasciato lì dove era, cristallizzato negli anni Ottanta e non hanno fatto una serie a parte, moderna ai giorni nostri? Dilan Dog non dovrebbe crescere, Dilan Dog dovrebbe essere fermo negli anni Ottanta. Non avete capito un cazzo di Dilan Dog, ok? Dilan Dog è nato negli anni Ottanta, quindi Dilan Dog è nato nel presente, ed è ambientato nel presente, è sempre stato frutto del suo tempo, è sempre stato figlio di quello che accadeva nel mondo, è sempre stato riflesso dei mostri che c'erano nella società attuale, ed è così che deve continuare ad essere. Se cristallizziamo negli anni Ottanta la serie regolare, Dilan Dog smette di essere Dilan Dog, non a livello narrativo, ma a livello metanarrativo, ovvero Dilan Dog non può più spaccare la notizia, la notizia non può più finire su tutti i giornali perché ha arrecato scandalo, perché ha parlato di un argomento caldo. Dilan Dog va vissuto nella sua contemporaneità, ed è proprio per questo che c'è stato anche il rilancio con la serie 666, perché ormai era difficile avere un Dilan Dog vecchio ragazzo troppo legato alle sue tradizioni vecchie in un contesto come il 2020. L'hanno un pochino svecchiato, l'hanno fatto ripartire con una storia prequel che rilancia leggermente le sue origini senza modificarle troppo, quindi si innesta in questo modo la serie 666, per poi lanciarci un Dilan Dog classico, ma ambientato ai giorni nostri. Una cosa per esempio che è successa anche nel reboot a fumetti di Buffy ambientate ai giorni nostri, di cui ho fatto un video tra l'altro, vi metto qua il link nelle schede. Dilan Dog invece, Old Boy, cioè una serie a parte cristallizzata negli anni 80, è giusto che ci sia, perché è affascinante che ci sia una serie così, ma non può essere la serie regolare, deve essere una serie a parte, che è appunto l'Old Boy. Perché? Perché qui troviamo il fascino nostalgico che c'era nei primi 100, nei primi 200, o quello che è, ma non avremo mai l'impatto che si può avere in una storia ambientata nei giorni nostri. È vero, si può parlare per metafore, l'ho già detto in un altro mio video, si può parlare per metafore, ma non sarebbe così di impatto. Dilan Dog nasce per essere contemporaneo, e così deve rimanere, proprio a livello commerciale. Poi a livello narrativo vi do ragione, potrebbe essere cristallizzato, ma nessun fumetto è cristallizzato, i fumetti si muovono nel tempo, si muovono molto lentamente, per esempio Batman è nato commercialmente nel 39, nel 39 Batman era un trentenne in attività, ma adesso non è una persona morta di 100 anni, perché il tempo scorre, ma scorre lentamente, se non sbaglio Batman dovrebbe essere in attività da circa 5-10 anni al massimo. Lo stesso Spider-Man, Spider-Man era adolescente, aveva 16 anni nel 1962, ma ora non è che ne ha 60-70 anni, ora Spider-Man dovrebbe avere all'incirca 30 anni, perché il tempo scorre molto lentamente, e così vale per Dilan Dog. Dilan Dog, sì, ha sempre in un certo senso 33 anni, ma il tempo comunque, il tempo attorno a lui scorre, ed è a questo che è servito questo soft reboot, la saga 666, ed è per questo che serve che Dilan Dog sia attuale, nella serie regolare. Spero di essere stato esaustivo, se non altro, perché se qualcuno me lo chiede ancora nei commenti, invece di riscrivergli la solita pappardella, gli faccio riferimento a questo video. Ora, noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video su Dilan Dog, molto probabilmente recensirò Dilan Dog e Morgan Lost, se altrimenti non vi interessa, potete trovarmi nel video del prossimo Dilan Dog della serie regolare, del numero 408, che sarà ambientato tra i cantieri, con degli anziani che spariscono, molto interessante. Se invece siete interessati solo all'Old Boy, vi aspetto a ottobre, e credo proprio che per ottobre farò tutto un tema Halloween, dato che non c'è nemmeno il Luca Comics, quindi ad Halloween io sarò qui. questo numero esce il 14 ottobre, datemi, che ne so, un paio di giorni per leggerlo, farò un video, dal 16 ottobre farò un video in cui parlo di questo numero, e poi magari sul sito Viola faremo qualche live in cui guarderemo qualcosa di horror, ma non di troppo horror, non vi dico cosa, perché se no mi dite, ma vai a cagare. Però ci divertiremo, è giusto un pretesto per chiacchierare un po' sul sito Viola di Dilan Dog e di tutto ciò che può essere a tema Halloween. Io come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e arrivederci al prossimo video, vecchi ragazzi.